Awe amici e no di PES fan club li mortacci vostri allora come vedete dalla schermata abbiamo il nome della stanza sempre i famosi chinotti e abbiamo come ospite per fare un amichevole ignorantissima il nostro carissimo amico admin angelo bove ciao ragazzi abbiamo deciso di postare un video con questa partita vediamo se ne facciamo uno sbara due ma penso una come vedete ci siamo entrambi con lo stemma di PES fan club e portiamo online il nostro nome della pagina di facebook e iniziamo alla gestione scuola abbiamo fatto vi faccio vedere perché è ignorantissima questa partita ok tutto a posto angelo dopo il video di ieri sì una belle commenti a destra a sinistra ecco qua come risaltano i nostri nomi della nostra pagina ho quindi angelo li vado a mettere la maglietta rossa perché gli piace una delle vecchie magliette lo sta di del napoli ok perfetto io rimango con la bianco si distincia e vi faccio vedere perché ignorante juve contro napoli ci siamo creati in questi due mesi le squadre angelo che bello spirito di squadra che hai però è cazzo allora io per lotti allenatore no e poi io mo l'ho fidata aia ma pure tu hai in tribuna altri come me io ne ho almeno tre o quattro non c'è nessuno in tribuna mi mancano giocatori vabbè mangia lo diciamo che c'è un punteggio più elevato del mio quindi diciamo lui parte avvantaggiato con le mani io parte avvantaggiato con la squadra quindi amichevoli ignorantissima juve napoli con gli semi di pes fan club vediamo se lo schifo totale di pes arriva anche a benissimo tutti scattato tranne danilo e chiellini non so se c'è a vedere però da giochiamo con di barra tre quartisti guai non ha davanti da ventanculo sto facendo crescere quindi muoviamoci secondi passano partita amica partita ignorantissima tra due amici a di me dal nostro gruppo ragazzi iscrivetevi di mortacci vostri dove cazzo stati che non vi state iscrivendo alla lunga ripeto per l'ennesima volta nel nostro gruppo potete dire che cazzo volete postare quel cacchio volete e fare tutto quello volete tutto apposto possiamo iniziare con lo stadio dove lo stadio lasciamo notte inverno sereno normale asciutto la voglia di far proprio ignorante non mai passato il tempo andiamo calcio d'inizio via a fa quello che vuole la logica sulla neve sulla pioggia io stavo guardando la formazione non è vero no io ci ho memorizzata purtroppo c'è un mazvici panchina perché mi mancano da glas costa alexandro ed è mresciano poi ciotto in tribuna c'è demiral c'è decilio ciò ravi mai a me mancano culibali mertensi e cailleron dei più forti poi qualche altro argentone c'è finire la capa k tu no no beh buon amichevole a tutti anzi no angelo sta ancora in pausa spero vi piaccia questa partita sperando ovviamente nuovo ve lo dico nelle amichevoli è tutto diverso dall'online delle coppe challenge divisione adesso non noterete angelo mi massacrerà perché anche se una squadra di merda neanche l'orienti ai si dicono io ce l'ho il 91 ma no a livello massimo proprio io c'è lo che fa schifo 77 livello base diciamo vabbè come dicono in molti conteranno le mani waliu dai senza pietà massacrani tanto loro gli iscritti o i nonni avranno visto già il video precedente che tutto da non voglio aggiungere altro perché sto registrando e ti spoilerò vabbè cimani c'è troviamo proviamo stacca pocchia esci da allora ronaldo direi che dovrebbe saltare di testa ronaldo in questo gioco stacca pocchia come sempre ecco ecco niente a me non funziona il bug come notate angelo è concentratissimo perché non parla no 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 e proviamo il tiro con i guai o sai che meretta a me 85 arrivato la normale durante i match dei famosi ma io c'è l'86 normale che non detto no non ho capito che almeno oggi facciamo vedere prima delle persone e mursa c'è tua l'homotti massacrono il tiro gol ma tu c'è quello if no 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 non c'è un cazzo il tenato il tuo milic in signe ma non lascia ma mi dice che c'è la mia giallotta rinchiuso in qualche stanza da solo in ritiro stare a parlare no lasciamo stati brevi ma la camorra la come si chiama in signe di a tuo padre che andasse lui mai mai ho letto oggi che più che in signe è stato all'anni prima libera ribellarsi ma ma dove stanno dormendo che non si capisce un cazzo a loro vogliono fare fuori ma gli schienzi non lo può vedere anche l'azzo che ti devo di poi non sano è visca con l'apprendi testi andiamo i guai proviamo a vedere i guai e mandi guai ma porca troia ma stiamo giocando a specchio no tu c'è il 4 3 3 ok quindi perché a specchio non voglio mai giocare quindi faccio un buon ucci ma cd bala e niente bala e visto non fisco posizione grande fessi ma la regla diventa no la deve fischiare non la palla perché non la può perdere perde la palla che amicheva l'ignorantissima troppo ok abbiamo a destra l'emesso non si può vedere io tiro col sinistro e la somma è un centrocampista ti serve tenerlo mancino che poi quando si gira vedi che fa posso capire l'attacca ma non c'è no cc va bene io gioco così poi ma che cazzo ha fatto l'anno c'è lei difensivo alla sì ecco ti pareva dice ma anico come è fatto a carte difensivo perché sta davanti alla cazzo del centrocampo è un bello c'è il trequartista speriamo che speriamo spieghiamo a chi veramente poi fa delle domande giustamente che non le capisci certe cose come oggi chi vedrà il video capirà cosa guarda guarda che ha fatto a 31 del passato ventancur livello già 88 affeguarda la scaccia ma guarda lì guarda le alante si va ventato che mi fa staccio fecata poi non l'ho mai vista vabbè ovviamente se volete la juve per esempio avete giocato la juve e volete mettete subito sarli avete tutti i giocatori a livello 90 spirito di squadra 99 spieghiamo questo che qualcuno non capirlo capito devo prenderlo i ancelotti appena lo trovo se rimane lui aspettato e ma perché i dribb in quest'anno non niente o io non ma neanche vogliamo e di chi cazzo vede non sta postando nessuni video già io sono andato col portiere la sera se lo facciamo rivedere alla strada non puoi far vedere la lalecità guarda con scesni oltre che qua vabbè chi è lì che cadeva l'hai visto io quando sto vedendo cioè guarda che lì non l'ho capito se lo fanno vedere si dovrebbe vedere guarda che lini vabbè ma che mai che in struttura di mai ghiacciare scesi di 401 se è che non è il numero che dopo alimento c'ho 7.000 portieri cristiano ronald una volta facendo guarda per poco poi faccio poi devo fare ci sono gli striscioni belli capito io poi vedi perché se usare il bacto che cosa minchia ma non capì che cosa ma caggia reazione credi sì sì credo sia stata deviata non so se dal tuo dal mio però stava mettendo le mani che bello quando fermi che puoi leggere bene gli striscioni le cose guardate per chi aspetta a battere guardate il bicchiere o bottiglia trovarà dell'hanno letto vinci a valo l'hanno letto l'hanno letto sulla bandierina che fiscione c'era scritta ma non era lui ma porca troia ma pure amiche devo gasti male ma battere a fancura vai poi c'è non c'è il campo di merda con la ho sbagliato lo stadio questa è con la pista mi sa mi sta sul cazzo stati colori sociali giallo nero bella questa roba ci ho provato a migliorare niente neppi non lo fa vedere come risaltano bene gli striscioni dietro le porte a me è bellissimo per gli fans per i miei fans pugliesi sani significati ma fammi tirare niente non mi fa tirare e vabbè madonna mia che nervoso più o meno equilibrati o meno però non ho secondo per allenatori e quindi nemmeno io ho lasciato solo questo infatti ma ci ho pensato nemmeno c'è un altro allenatore che voglio portare su questo il cls cld l'ex non lo sto usando più fernando santo su che all'inizio non mi trovavo che è simile sani però molto offensivo ma in effetti è da portare come secondo come offensivo se il terzo allenatore sul sale in effetti non c'ho mai pensato ecco adesso se angelo vuole fare i manuali portiere ma sa che lo conosco dov'è cap ma qual è il tasto manuale portiere l'analogico destro l 1 spieghiamo perché angelo in dati manuali guardati io aspettavo cucissima non è riuscito dopo visita andava a capocchi ha visto che andava manuale in realtà io volevo prendere prima e manuale ma non me l'ha dato e in effetti non sta andando manuali questi giochi bel pallone aga che bel pallone anni 80 90 80 più che altro che bello che bello vedere fa la michele vedere play lo so che stavate dicendo ma tu c'hai la juve più forte del napoli va bene lo so no tu chi vedrà le partite se la vedrà sta partita ignorante ora al massimo ma sono lui vediamo pensiamo a fare una migliore con le due squadre migliore oh 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 ok oh ok 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 oh ok 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 no che ha fatto quel bel gol no vabbè ma guarda volo ci che ha fatto un ciclo e vabbè ma guarda bonucci ho visto si è fermato forse ma come adesso si fa ma si è fermato da solo ti si è fermato tu pensando che rientrassi ma si è l'ho fermato io ma poi dovrebbe continuare c'è scusa si si sta quel secondo in più firmo lo so pensavo che mi portassi e vedi è rimasto bel gol bel gol è inutile mi ha fatto la finta pensavo che anche tu mi andassi subito sul destra Napoli take the lead Higuaïn Zielinski Lozano Ma vedi che è allucinante sei la tua destra ma porca giustamente quella più veloce è il cursore Eh vabbè non riesco a farlo uscire il portiere io là bel gol bel gol fatta merda Qui Chiellini si ferma dei life vacciole Bonucci vacciole pure loro tutti acciola non ho capito Dove cazzo allora guarda Chiellini vabbè poi l'12 ci sta perfetto Chiellini va e non lo prende più va bene Dei life se ne va dietro ovviamente e bonus fatta bene Cioè che bonus e poi è tirato molto facilmente E poi è tirato molto facilmente E poi è tirato molto facilmente Fatto bene Non riesce più sta cosa Oh e perché c'è il buco là? L'ho fatta in giro eh ma ho caricato un po' troppo Ma vabbè Eh vabbè io cambio ne ho bene così Vabbè non è che cazzo di cambio c'ho pure io Non posso cambiare molto Bello qua Eh questa è una delle stronzate che a volte cazzo Eh guarda non la prendo neanch'io la palla eh Vabbè C'è ne è andato E' un passaggio che aveva annullato Niente uno I madonna me Ma che in cu Madonna mi Ma che c'è Madonna mi Madonna mi Niente Cioè vabbè E dicevo io L'aveva di fatto fallo Brucco Ha se le braccio dopo non ne prendo più madonna madonna mia e chi è là? ma vediamo che un fermo ma quello gli fai Manolas? si dicevo io che cazzo è l'unico buono che c'ho a menù non l'ho presa più secondo tempo proprio morti minchia bella che pure Pjanic che l'è trabista settimana cioè vergognoso ah l'ho tolto tu ah ah scusa no no sicuro stavo pensando a Pjanic che stai scattati che non ci credo chi cazzo ci metto qua ma lasciamo così ovviamente direte come cazzo hai fatto a fare cinque cambi è perché lo potete impostare prima della partita spieghiamo che poi le persone dicono come mai il pentativo di voler andare tutti avanti è andato a farsi sé quindi spezziamo la gamba ad angelo e la finiamo così beh fai un bel tira all'incrocio vedi porti e non si muove angelo non si muove solo quando tiri niente con bella partita mi hai presa schiaffi di liberare vuoi fare una veloce con le squadre normali ce la fai non riesco adesso va bene l'approccio la posteremo un altro giorno in un altro video oggi ne ho fatti abbastanza di video non ho fatto un cazzo stamattina perché lavorerò stasera questi sono gli highlights che vuoi aggiungere qualcosa prima di chiudere che l'aggiornamento che hanno fatto il cino serve un cazzo tanto perfettamente perfettamente perché le cose importanti non le aggiorneranno mai anche oggi anche oggi le gente con le monetine ma non coglioni chi ci scioperà per no 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 di coglioni che ha ciò fatto io coglioni anche tu che ci ha sciopato per poi vedrai per i porti l'assima nascosto non li girai ti ricordi ciò l'abbiamo di ieri comunque quando hai girato un 10 euro quando girassi 10 ho detto anche di non farlo lo so ma io te lo dico io l'ho detto sempre finché scioppi poco ci sta un autentico nascosto non ho dato neanche un euro ho utilizzato tutti dentro tipo le monete cento euro stamattina 23 ragazzi su twitch che l'hanno fatto a botte di 50 euro cioè è vero sì sì stranieri però erano stranieri ma dicono è una sciocchezza farlo perché tanto alla fine se devi vincere vinci con chiunque vinci pure con palle euro potenziate in campo se devi perdere poi avere pure tutta la squadra 99 100 per di lo stesso qui a meno che non sei un pro di questo ciò che abbiamo detto io in quell'altro video quindi è una bella fatta perché ho visto battistuta nello solo so che ti piace tanto la settimana scorsa c'era maraduno ma non ho proprio non l'ho proprio fatto cioè non ho proprio voglia di farlo perché non esiste vabbè ma ho avuto tre anni di fila maraduno non fa niente quest'anno se lo metteranno che i gp ci tenterò ma mi sa che non metteranno mai stigi ma io dico lo vuoi fare con le monete non ripetiamo lo stesso discorso non ne mettere tre mettere 20 30 su 100 giocatori ormai fai con c'è anzi ci guadagnerà di più con ami in che senso se io ci buttavo 10 io faccio l'esempio un'altra posto mi ci avrei buttato 50 per dire 100 cazzo su 100 giri me lo darai 3 o 4 di leggende fori capi che dico no ma quello che dici in quello che dici quanta per cento anzi 50 giocatori pala argento ha messo quello che dici tu lo faranno lo faranno anno nuovo quando iniziano a mettere queste questi pull così ma con più la gente dentro per attirare sempre più le persone a cercarle capito faranno così vabbè tanto ieri abbiamo discusso parecchio è abbastanza pure inutile ripeto ho già spiegato nel mio video precedente penso che ascolteranno abbiamo fatto una mica ignorante ne faremo altre in futuro so che in parecchi mi state chiedendo di fare amichevoli però ragazzi io ho sempre il tempo limitato non ho il tempo illimitato quando lo faccio perché con angelo comunque ciò confidenza come anche con un altro mio amico del mio paese ogni tanto la faccio ma con ragazzi se farò una live vedremo forse forse la faccio domenica pomeriggio dopo le tre tre e mezza prima del match dei perché questa settimana i merci dell'ho giocato se faccio la live la faccio con la squadra my club match dei detto questi iscrivetevi la pagina al gruppo pes fan club che è il nostro se volete iscrivervi su questa mia pagina youtube fatelo se non la fate non me ne fate un cazzo mettete mi piace non mi piace è stato bu saluta angelo e ce ne andiamo a mangiare ragazzi ciao a tutti ciao ciao